Oh mio Dio, vedo notare su acque oscure la ronda dell'aurora, che si è affondata. Il tempo sta scadendo, il tempo che ho ricevuto da te perché mutassi il secolo più oscuro della storia, perché raddrizzassi la storia, perché facessi tornare indietro dalla china a questo treno. E ora sono anche pochi giorni per manovrare lo scambio. Mi restano solo uno o due giorni per manovrare lo scambio, per dirigere i convogli del ventesimo secolo verso altri binari. Si sarà lavato le sue mani immonde prima di armarsi e sparare ad un membro della famiglia reale! Maestà, abbiamo ancora una giornata intera, forse due. Non è troppo tardi. Abbiamo ancora la possibilità di salvare cento milioni di vite. Si, 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 gliela faremo pagare! Fate entrare l'erede al trono! Guerra! Krieg! Qui a Parigi non ha nessuna probabilità di avere successo da avventuriero. Nessuno le rivolgerà la parola. Sono stati appena feriti e mortalmente non si comprano un amante dopo due settimane, ma se mi stanno distesi nell'autodoppato. Questo è l'argomento più importante di quanto abbiamo mai parlato. Ti ascolto, Rasputin. Di cosa si tratta? Della guerra, altezza. Non puoi asserire che non abbiamo mai trattato questo argomento, vero? No. Che non hai mai cercato di convincermi a una pace concordata? Che non hai mai cercato di convincermi a tradire i nostri amici? Che non hai mai cercato di convincermi a disubbidire all'alleanza? E che... Altezza! Questa notte un arcangelo mi ha svelato ciò che succederà nei prossimi cent'anni se si darà inizio alla guerra. Me ne sono accorta, me ne sono accorta che la tampini. L'abbiamo appena ricevuta, appena arrivata dall'Italia. Ora è proprio quello di cui ho bisogno, lo sa, madame. Di allegria. Di allegria. Di allegria. Ma ho letto l'altro giorno sul giornale che qualcuno ha tentato di ucciderti. Ma vedo con piacere che non è vero. Ma è vero. A morte? Allora, tu non sei più vivo. I nostri soldati entreranno a Parigi, Belgrado e Londra e mi spiace a Pietro Bucco e al ritmo di questo inno e poi a Mosca. Ti intenti di musica? Peccato! Cosa sei venuto a fare? Mister Rasputti, cosa ne porta qui sulle rive del Tamigi? Sei lecito chiederle. Ho saputo che porta un importante messaggio. Lei è il consigliere dello zar, non è vero? Ho sentito dire che lei è un indovino. Lo bergaro per 코c거, qualcos volerricationale e Cayetà? Dovevi cicarano lashow. Ho sentito dire che lei è un indovino. Ho sentito dire che lei è un indovino. groupe dirency. L happening... L'allautolone se ...